Ciao, sono qui con... Mattia Mattia, tu non hai ancora partecipato? Quando pensi che sia il tuo turno? Beh, mi hanno detto intorno all'una, alle due Eh, ce la fai rimanere sveglio? Ci proverò Ma tu nuoti, che rapporto hai con il nuoto? Eh, io faccio agonismo da, diciamo, un anno Adesso ho intenzione di lasciare, però... Nooo Eh, un impegno... Ti sei allenato un po' per questa sera? Certo E che effetto ti fa partecipare ad un evento da Guinness? Eh, sempre un'emozione forte, poi anche per aiutare persone che non sono fortunate come noi Sei di Padova? No, io sono di Ferrara Ah, e come sei venuto a conoscenza di questa iniziativa? Eh, tramite la mia società di nuoto, che ha sede qui a Padova Sei qui con tutti i tuoi compagni, allora? Sì, alcuni sono di là a fare l'altra gara e alcuni a mangiare, penso Va bene, allora grazie mille e bocca al lupo per dopo Grazie mille Ciao, grazie